Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Ebbene sì, oggi parliamo del quarto potere. Noi abbiamo il potere della politica, il potere dell'economia, il potere rappresentato dalla magistratura, dalla giustizia, ma abbiamo anche e soprattutto il potere rappresentato dai giornalisti che hanno determinato negli anni le sorti di molti paesi, non solamente dell'Italia, con la loro deriva giustizialista. Nel nostro paese ne sappiamo qualcosa per quanto riguarda ad esempio Silvio Berlusconi, dove dei giornalisti schifosi, perché io non posso chiamarli in modo diverso, spiando attraverso il buco della serratura hanno distrutto degli uomini mettendo in piazza delle questioni che nulla avevano a che vedere con la vita politica del nostro paese. Tra l'altro, per farvi capire quanto siano potenti i giornalisti, circa dieci anni fa nel gruppo Bilderberg, che raggruppa i potenti, i più potenti della terra, è stata chiamata a farne parte una certa Lilligruber e questa chiaramente è storia e ci fa capire quanto appunto i giornalisti siano potenti. Ora voi dovete sapere che nelle intercettazioni della magistratura, anche in quelle di Palamara, si fanno nomi di questi giornalisti, nomi che non riescono ad uscire proprio perché esiste un incredibile corporativismo fra i giornalisti e sia quelli di destra e sinistra in certe circostanze si spalleggiano e, così per dirla in maniera semplice, non si fanno del male. Noi abbiamo visto, se stiamo attenti, molto spesso anche nelle varie trasmissioni politiche che ormai ci sono tutte le settimane, che giornalisti sia di destra che di sinistra fanno in qualche modo un po' finta di attaccarsi. In realtà non lo fanno e forse davvero uno dei pochi che è rimasto, che realmente fa delle inchieste senza guardare in faccia a nessuno, è proprio Massimo Giletti. Anche se poi dobbiamo dire che Massimo Giletti anche lui non ha ancora affrontato questo tema per quanto riguarda il quarto potere. Vedremo, vedremo in futuro. Ora, noi in questi giorni abbiamo assistito come stato attaccato con una incredibile violenza il generale Antonio Papalardo. Si sta cercando in ogni maniera di renderlo ridicolo, di attaccarlo, di denigrare la sua persona. E guardate, neanche tanto su questioni che lo riguardano o, ad esempio, sulla sua carriera. E questo ci fa riflettere, vuol dire che nulla hanno trovato, che la carriera del generale Antonio Papalardo come servitore dello Stato è integerrima, perché altrimenti lo avrebbero già fatto da molto tempo. Ma lo stanno attaccando sulle mascherine, sulla sua idea per quanto riguarda il dramma che abbiamo vissuto, sui suoi atteggiamenti. Ma non entrano mai nel merito delle questioni, non entrano mai nel merito della questione che lui sta attaccando un sistema e accusato un sistema, che sarebbe, credo, molto più giusto e molto più logico. Non entrano mai nella questione di chi ha partecipato e partecipa a queste manifestazioni. Ora, i giornalisti, lo abbiamo visto in questi anni, se la magistratura è stata ed è il braccio armato della sinistra, i giornalisti sono, si può dire in qualche modo, il braccio armato dei magistrati, perché attraverso il loro giustizialismo hanno riportato sui giornali quelli che erano filoni di inchiesta da parte di questi magistrati che erano guidati dal potere politico, o meglio, bisogna poi vedere quale conta di più tra il potere della magistratura, quello politico e dei giornalisti. Spesso io vi ho detto che, rispetto anche a parlamentari che noi neanche conosciamo, probabilmente le varie Lilligruber, i Floris, i Travaglio, i Scanzi, i Giannini, questa gente qui, ha molto più potere. Perché vedete, il potere è la comunicazione. Il potere è quanto tu riesci ad incidere sull'opinione pubblica. Se tu hai a disposizione una trasmissione in print time, nell'orario dove ci sono 2, 3, 5, 7 milioni di italiani ad assistere alla trasmissione, e puoi fare quello che vuoi, spesso senza contraddittorio, tu capisci che hai un grande, grande potere. Se poi assistiamo a queste trasmissioni, non ultima, quella di ieri sera, dove Floris ha intervistato Matteo Salvini. Ma invece di chiedergli, come sarebbe logico per un giornalista, lui come interverrebbe rispetto alle questioni che abbiamo sul tavolo, rispetto al dramma che stiamo vivendo, ha insistito sul fatto che, tra l'altro, guardate, non sono neanche tanto a conoscenza questa storia di Fontana, non so se di sua suocera, per quanto riguarda i camici gratis, regalati, non regalati, che francamente, credo che alla gente, in questo momento, possa interessare di meno, ma interessano le soluzioni. Tanto meno che posso ancora capire se tu hai di fronte il protagonista, lo stesso Fontana, ma hai di fronte Salvini, che probabilmente poteva anche non essere neanche a conoscenza di questa questione. Questo vi fa capire qual è l'orientamento e come si muovono i giornalisti. Così come quando attaccano alla 7 continuamente la sanità lombarda. Io non voglio dire che la sanità lombarda non abbia commesso degli errori. Sicuramente ne hanno commessi anche tanti, ma alla stessa maniera li ha commessi il governo, che invece non sembra mai essere un tema per i giornalisti per quanto riguarda quello che è successo in Lombardia. Così come in tantissime altre zone d'Italia ci sono state delle situazioni drammatiche, errori incredibili, anche nelle case di riposo del Lazio. Ma chissà perché non se ne parla mai. Forse perché il presidente del Lazio è un certo Zingaretti della sinistra? Probabile, credo che sia esattamente così. Sta di fatto che noi abbiamo dei giornalisti estremamente pericolosi, giornalisti che hanno determinato in questi anni le sorti del nostro paese, sono stati determinanti perché loro sono determinanti nei confronti dell'opinione pubblica. Perché i giornalisti che ci raccontano la verità, o perlomeno cercano di affrontare il problema a 360 gradi, non hanno mai spazio nelle trasmissioni che contano. Tra l'altro vi racconto una mia cosa personale, ma che vi fa capire tante cose. Io sono direttamente in contatto, nel senso che ho il contatto diretto con giornalisti, posso fare i nomi perché non mi interessa, tipo Capezzone ad esempio. Ho contatto diretto con altri politici, ecco di questi magari preferisco non fare i nomi, ma giusto per un fatto così di discrezionalità, ai quali ad esempio ho avuto modo di scrivere, di scrivere anche delle email, tra l'altro sulle email loro personali e non l'email che tutti quanti conoscono e non ho mai mai ricevuto risposte. Mai. Questo è il loro atteggiamento. Cioè quando uno racconta dei fatti che a loro così turbano o non fa piacere, loro non ti permettano di parlare, di esprimerti. Questa è la realtà. Con questo io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo stasera.